Non chiudere i porti ai disperati, ha detto il presidente della CEI parlando di immigrazione, quindi una battuta anche sull'uso dei simboli religiosi nei comizi elettorali. Non ho mai giudicato la fede di nessuno, quindi so benissimo a chi vi riferite. Io ho un'altra visione della politica, che la politica deve essere laica.